Cosa devo fare per cambiare la mia assicurazione malattia di base? Cambiare è facile e veloce. Di solito ci vogliono meno di 10 minuti. Un'economia domestica può risparmiare in media 1.500 franchi all'anno. Le prestazioni dell'assicurazione di base sono stabilite per legge e identiche presso tutte le casse malati. Tuttavia, in Svizzera ci sono oltre 80 casse malati. Qual è la più conveniente per me? Passare le giornate al telefono con i call center e snervante Su comparis.ch si ricevono tutte le tariffe a colpo d'occhio. Sempre su comparis.ch è possibile ordinare le offerte e stampare la lettera di disdetta generata automaticamente facendola pervenire all'attuale cassa malati prima del 30 novembre.